C'è qualcosa di speciale nei campi lucani, dove il sole caldo bacia delicatamente le nostre piante di pomodoro. Questo è l'inizio della nostra storia. La nostra passata inizia qui, con la raccolta manuale di ogni singolo pomodoro. Poi vengono lavati e cotti lentamente nel modo tradizionale, per preservare tutto il sapore e le proprietà nutritive. Il risultato è una passata di pomodoro fresca, ricca di gusto e di salute. Niente conservanti, niente pesticidi, solo pomodori. Ecco pronta la passata Donna Carmela, dove ogni piatto diventa un'occasione per riunire la famiglia intorno a sapore autentici e genuini. Se vuoi produttare la passata fresca Donna Carmela, che produrremo a luglio, non ti resta che seguire le nostre prossime comunicazioni. A presto, ciao! Grazie a tutti!